Buonasera mister, Maria Rosalia De Pietro e Retti Calabria, gioiamo sicuramente per questi tre punti e questa vittoria, seppur è arrivata al novantesimo. Io però le devo fare una domanda diretta. Non credo che sia più un problema di difesa prendere il gol, io credo che si possa parlare un attimo di problema portiere. Dini sembra la più brutta copia del portiere che abbiamo visto nella passata stagione e oggi il gol che ha preso, per me le cause sono sue. Dalla panchina non ho avuto quella sensazione, però lo devo rivedere, ma l'errore del portiere fa parte del gioco e nell'eventualità, in generale sto parlando non di Andrea, quindi se subiamo gol abbiamo commesso degli errori a centrocampo, forse qualcosina prima, un difensore subito prima dell'eventuale intervento di Andrea, quindi non penso, noi non abbiamo un problema al portiere assolutamente, io sono convinto che ogni giocatore vive le proprie stagioni, a volte c'è una fase del campionato in maniera più positiva di un'altra, quindi Andrea abbiamo parlato più di una volta insieme, si deve sentire tranquillo, deve allenarsi forte come fa, lo conoscete meglio di me, perché era qui ancora prima che io arrivassi, quindi sapete di che qualità di persona seria è, ci mette la faccia, sta facendo il proprio lavoro, ha commesso qualche errore, lui è il primo che lo sa, quindi lui si allena per spingersi al suo massimo e sono convinto che ci è molto vicino e ci tornerà. Salve mister Giuseppe Livadotti della provincia Cappello, dopo il primo vantaggio del Crotone non si è notato quella superiorità psicologica da parte della squadra per affondare il risultato per metterlo al sicuro, anzi è stato piuttosto il Monterosi che ha cercato il pareggio, i cambi della ripresa hanno cambiato il volto nella parte finale della squadra, è un Crotone che ragiona troppo e non aggredisce per quello che dovrebbe essere la categoria, per quella che è la qualità del girone o è una squadra che ancora atleticamente e psicologicamente non ha raggiunto il massimo. Ma io penso che la partita sia stata, abbiamo provato a farla, squadra di fronte molto molto fisica e quindi abbiamo fatto fatica a vincere i duelli, abbiamo fatto rispetto ad altre partite in giro a palla più lento, siamo arrivati poco sulle punte e quindi io penso che sia stata un po' tutta la partita, non è che sia stato un primo tempo migliore del secondo, del secondo, si sono abbassati più gli avversari, si sono dedicati solo al contropiede, volevamo rimetterla in positività per noi però la partita in generale è stata una partita anonima, non c'è stato mai un grande ritmo, non abbiamo avuto grandissimi spunti tecnici, abbiamo crossato poco rispetto alle altre partite, quindi è stata una partita come ci eravamo detti difficile e noi giocando così l'abbiamo resa ancora più difficile. Poi c'è stata la perla di Bruzzaniti, sono felicissimo perché il calcio è fatto anche così e quindi questa volta gioiamo perché comunque i tre punti fatti ogni partita non è male, quindi oggi hai 21 punti, domenica andrai a fare uno scontro diretto contro una squadra forte, ci vai nelle condizioni dove la squadra non perde da cinque partite, dentro una partita dove ci sono tanti aspetti non positivi, sono prima io a riconoscerlo e quindi dobbiamo migliorarla tanto, rispetto all'ultima partita abbiamo fatto un passetto indietro sotto questo aspetto e la squadra era un po' più macchinosa di altre partite, quindi sia dall'inizio che alla fine, poi alla fine ci abbiamo provato, la squadra avversata si è abbassata, prima dell'Euro goal comunque Gomez ha avuto una buona palla, Tuminella ha avuto una buona palla, abbiamo concesso un paio di contropiedi perché la squadra aveva perso un po' di equilibrio alla fine, commettendo un mezzo errore dietro siamo stati lì premiati dalla buona sorte e dalla bravura di Andrea e poi è arrivata una vittoria che comunque anche se non siamo felicissimi per come è arrivata, però siamo felicissimi perché è una vittoria e una vittoria. Salve mister Gianfranco Torino Rosso Blu, io mi ricollego alla domanda precedente perché non è solo un giro palla molto lento, almeno da quello che si è visto dagli spalti, sembrava proprio un problema di atteggiamento, dopo il primo gol la squadra, e non è la prima volta, anche lei l'ha evidenziato ogni tanto, è sembrata accontentarsi invece di andare a mordere le caviglie dell'avversario e andare a fare il raddoppio, è sembrato che non avessero fame, cosa che invece, Maria Rosaria ieri l'ha chiamata le seconde linee, solo che le seconde linee quando sono entrate in campo hanno cambiato la partita anche perché hanno dimostrato proprio con la voglia di esserci, Iurcec, Bruzzaniti, tutti quelli che sono subentrati hanno dato proprio grinta, voglia, che io al primo tempo dopo il gol non l'ho visto più. Io penso che siamo passati in vantaggio dove quella forse era stata la nostra prima occasione, io non mi ricordo che l'avevamo messo lì, quindi per me il trantramma è lo stesso, solo che poi sei passato in vantaggio e non è che hai fatto un forcing offensivo e poi ti sei abbassato, la partita era sullo stesso binario, il primo tempo è stato sempre preso lo stesso binario, lì abbiamo fatto un bel gol perché comunque crossa Tribuzzi e ti fa gol cridalese vuol dire che hai riempito molto l'area e tant'è vero che riusciamo a fare gol, quindi il gol è molto bello secondo me da squadra, però il trantramma è stato quello, io non penso che prima, e voglio essere onesto, non penso che prima ci sia stato un forcing sulla squadra, palleggiamo un po' di più, il Monterosi come avevo detto prima è una squadra che ti aspetta su quelle altezze, ha qualità, perché Fantaci lo conosco da Empoli, un ragazzo con qualità tecnica, comunque Vano è un vertice dove dà fastidio, è difficile da anticipare, però io penso che il primo tempo sia stato sempre uguale, non c'è stata reazione dopo l'1-0, ma penso che l'1-0 sia venuto casuale, non ci sia stato un forcing importante, per me siamo andati molto più vicini al gol del secondo tempo, tutti quelli che abbiamo citato anche per conformità fisica non fanno fatica a entrare subito in partita, perché parliamo di tre brevi linei e quella è la storia del calcio, sono entrati subito bene e quindi quello è l'intento, noi abbiamo giocatori che anche in altre partite quando sono entrati hanno dato quella freschezza atletica, lo hanno dimostrato anche questa volta, hanno trasmesso qualcosa in più a chi era nella fase galante della partita e quindi quello è l'intento dei cambi fondamentalmente, quindi questi ragazzi sono entrati bene, però io penso che il primo tempo, tra prima e dopo il gol, io non ho visto grande differenza sinceramente, anche prima, abbiamo provato, abbiamo fatto, siamo stati compatti, abbiamo rischiato poco, però non avevamo quella qualità, quella voglia di rubare la palla, ci hanno messo un po' in difficoltà e quindi la partita per me era stata molto equilibrata, abbiamo trovato un bel gol, però la partita per me è rimasta sempre sulla stessa linea. La sera misteri non ha notato un abbassamento dopo i primi 23-25 minuti? No, sì, ma dopo quando passi in vantaggio gli altri ti salgono un pochino e quindi ci sta, però io un abbassamento ci può essere stato, ma io anche i primi 23-25 minuti sono qui a dire che non sono contento nei 23-25 minuti, cioè quando io mi giravo verso i miei collaboratori dicevo, no, cioè non mi piaceva, non eravamo latina, non eravamo le ultime partite, non eravamo Foggia e si vedeva, succede, succede, oggi abbiamo giocato alle 2, siamo a 12 novembre, ancora il caldo condiziona, la mettiamo così, però no, per me il primo tempo è stato tutto molto simile, anche se i primi 20 minuti forse abbiamo avuto un po' più di palleggio nella metà campo loro, però non abbiamo trovato mai gli ultimi, difficilmente abbiamo trovato gli ultimi 25 metri con qualità e quindi io il primo tempo, no, parliamo del primo tempo, no, 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 è un atteggiamento inconscio, è un limite caratteriale? No, è che durante il campionato, no, adesso un limite caratteriale non la metto perché comunque ha rifatto gol alla fine, ha rifatto gol vincendo, ci hanno provato fino alla fine perché prima secondo me Gomez e Tuminella hanno due palle importanti. La caratteriale intendo, quello che le chiede è andiamo a prenderli comunque alti, quindi finiamo a... No, adesso abbiamo cambiato leggermente, rispetto a 4-5 partite fa ci siamo cambiati una linea di passaggio, la facciamo, linea di pressing, la facciamo leggermente più bassa prima a farla più bassa, però non siamo riusciti, ci scavalcavano subito il centrocampo perché non cercavano il premio ma cercavano vano e quindi la partita è stata difficile, però sicuramente tra le ultime partite o anche partite precedenti, la metto quella è stata una partita anonima da parte nostra e quindi siamo contenti di un risultato per me importantissimo perché comunque veniamo nelle ultime 5-3 vittorie e quindi questa ti dà continuità, però sappiamo benissimo che questa è una partita dove ci portiamo a casa il risultato, ma dobbiamo accelerare i giri, dobbiamo aumentare i giri se vogliamo essere protagonisti di più dentro la partita. Ciao Minister Bruno Valermo, io avrei 30 domande, te ne faccio solo qualcuna. Tutte 30. No, 30 sono troppe. Premesso che secondo me una delle più grosse difficoltà nel primo tempo del Crotone è stato trovare quei 25 metri perché comunque Petricione è stato molto limitato dalla marcatura sfissiante loro ed era difficile trovarlo in mezzo alle linee, tant'è che poi nel secondo tempo l'hai abbassato un po' ed era più difficile andarla a prendere. Io invece vorrei chiederti tanti cross, pochi in questa partita per dire la verità, uno dal fondo hai fatto 1-0, tutti gli altri dalla tre quarti. Perché si continua a crossare dalla tre quarti quando è più facile per i difensori prendere dalla tre quarti? Non è nella nostra preparativa e non lo ricerchiamo. Ci sono delle partite dove tu ti senti meno sicuro e quello è un cross facile perché difficilmente sei contrastato, è un cross facile da fare ed è un cross facile da difendere. Quindi obiettivamente noi non siamo una squadra che fa quel tipo di cross. Oggi è capitato tante volte perché non abbiamo trovato gli sviluppi e quindi se quando non trovi lo sviluppo pensi di arrivare alle punte con quel tipo di cross e non è utile. Quindi tante volte a Danieleo sotto a me perché era sotto a me o a Carlo nel primo tempo che si era un po' chiuso troppo con la schiena non siamo riusciti ad arrivare sul fondo che di solito arriviamo, ballano i 15 metri un po' più e già diventa un cross importante. Tribuzzi mi ricordo che l'ha messe, Bruzzaniti l'ha messe quando nel secondo tempo abbiamo sbagliato il gol con Tuminello o libero o una cosa. Quindi l'obiettivo della squadra è arrivare là. Quando crossiamo da lì ci alleniamo a cercare le punte sui piedi perché quello non può essere un cross. Una volta avuta la presa col portiere facilmente ma è quasi impossibile per me fare gol da quel cross. Quindi sono d'accordo che quelle spesso sono per fare un forcing ma non può essere un cross risolutore. Quindi quando la squadra comincia a crossare da lì è perché non ha neanche più la pazienza perché vuole andare da una parte all'altra perché da quelle altezze di solito ricerchiamo i centrocampisti per riabbassare ulteriormente ma per trovare il fondo. Se crossiamo da lì è perché non abbiamo trovato uno sviluppo importante. Io mi ricordo di te da calciatore perché avevo l'età per guardare le partite, perché seguivo il calcio da quando avevo quattro anni e voglio dire ti fa rabbia il fatto che secondo me tu hai degli elementi che potrebbero barra dovrebbero farti la differenza perché hanno delle doti tecniche enormi ma appaiono in determinati momenti della partita quasi confusionari, cioè vanno in confusione mentale loro stessi. Invece di darti una mano rischiano di penalizzarti. Vabbè parlare di me non mi piace perché insomma è storia, però è chiaro che quando la palla arriva negli ultimi 25 metri la frenesia non serve, cioè la qualità lì la dà far la scelta giusta. Per me Paniteri quando è entrato mi dà la sensazione che possa succedere sempre qualcosa di molto importante, quindi poi succede o non succede è difficile perché non è che chi gioca tra le linee tutte le palle fa qualcosa di importante, però giocare tra le linee vuol dire avere meno tempo possibile di pensiero, gli avversari ti danno meno tempo di ragionare, devi capire prima che ti arriva la palla l'eventuale giocata, quindi stiamo chiedendo tante cose, qualcuno di noi la può migliorare come ci siamo detti perché a Latina secondo me con un po' di quella avremmo potuto vincere per come avevamo fatto la partita, però quella è una delle cose più difficili del caccio, quindi mi piace portarci i giocatori e farli capire tramite video e tutto che lì si può fare delle scelte vincenti, lì si fanno le scelte vincenti, che cambiano i risultati. La scelta giusta è quella che determina le categorie 1? Sì, solo quello eh. Grazie. Salve mister. Ciao. Suvi Gisaborito. Giancarlo Antonioni lo ricordi? Mamma mia. Quando giocava ci faceva arrabbiare, quando non c'era ci faceva bestemmiare, vero? Così. In questa squadra credo che la senza levitare si stia, è latente, si capisce chiaramente, ma chi dovrebbe essere il suo sostituto nel raccordo tra centrocampo e attacco che in questo momento non c'è? Vabbè, a Latina io penso che Dursi sia stato uno dei migliori. Oggi? Succede, però succede. Succede ai campionissimi, ogni tanto si dice che ho guardato il Milan alla Juve, oggi però ha giocato male. Succede. Quindi oggi quello che aveva fatto Dursi a Latina, che aveva raccordato, aveva tirato 3-4 volte in porta, aveva fatto un assist, oggi è stato più confusionale per ritornare la partita di prima, non ha trovato lo spunto, non ha messo tecnica e quindi per questo ho fatto la scelta, ma non è sicuramente una bocciatura. Noi che abbiamo giocato sappiamo benissimo che a volte da una domenica all'altra si può non avere quella continuità, quindi oggi ha fatto fatica a trovare la posizione, ha fatto fatica ad avere la palla sui piedi, ha perso 3-4 palloni che lui di solito non perde, quindi è chiaro che l'assenza di Mattia è un'assenza importante perché il ragazzo stava crescendo veramente, ti dava le due fasi, però fino alla partita di Latina io penso che Dursi sia stato sempre uno dei migliori in campo, oggi non è entrato in partita ma fa parte del gioco, domattina si deve allenare forte perché si allenerà con quelli che non hanno giocato per cercare di fare una grande partita a Caserta. La seconda domanda nemmeno 24 ore fa eravamo qui, ci raccontavi, dobbiamo giocare bene perché dobbiamo portare a casa la vittoria, teniamoci il risultato, la prestazione la stiamo commentando, a me quello che non mi piace per esempio vedere Bittante che salta sulle spalle di Tribuzzi e di Leo e fa gol, quella è una cosa veramente che non si può vedere e poi perché dopo tutte queste belle parole abbiamo detto alla vigilia oggi si è giocato in quel mondo, oggi è stata una noia, perché la volontà di tutte le squadre è quella di giocare bene ma poi quando vai alla fine delle partite non tutte le squadre giocano bene, perché è così, quindi l'intento era quello di giocare bene, l'intento è quello di giocare sempre bene, poi dopo c'è una domenica dove tu trovi più difficoltà, dove comunque non hai un approccio fisico giusto, le fisicità cambiano da domenica a domenica, quindi ci può stare che in una partita vai più in difficoltà e io dico che un mese e mezzo fa non l'avremmo vinta, l'Euro gol non lo vedo come un pizzico di fortuna ma la vedo come una foglia sana di un giocatore che ha deciso in un momento dove la palla scottava di voler fare una grande giocata ed è stato premiato, non è fortuna, fortuna è se mi ritrovo un gol senza volerlo, lui è venuto verso dentro il campo, la squadra aveva palleggiato da una parte all'altra, ha permesso a lui di venire dentro, la palla prima ne aveva messa una per Gomez che era davanti solo al portiere e non è riuscito a prenderla, quindi è un ragazzo che è entrato con personalità e quindi il gol non lo ritengo fortuna, nel secondo tempo eravamo di là e quindi ci godiamo la vittoria che è per me veramente importante in questa fase del campionato, glielo ho detto, certo, c'erano tutti i presupposti per sbagliare la partita oppure con molte critiche perché comunque per me rimane una squadra competitiva per fisicità, per quello quindi sono curioso di vedere il proceduto del campionato, però giocavi con l'ultimo, per tutti giocavi con l'ultimo e quindi era scritto che si dovesse vincere 3-0, però chi ha un po' di esperienza sa che non è così e che quindi la partita andava lottata, si è giocato bene? No, perché io già dal primo tempo ho detto di una partita e glielo ho detto dal fine del primo tempo, non dobbiamo accettare, non so il risultato, ma non dobbiamo accettare di fare 90 minuti anonimi, il secondo tempo ci abbiamo provato un po' di più, è cambiato qualche cosa ed è arrivata la vittoria, però non siamo qui solamente a dire che è stata una delle migliori nostre partite. Guido chiaramente per me lo sapete cosa penso, è un leader di questa squadra, è stato male e quindi questo, ma Guido trascina, Guido trascina è un leader e quindi ci diciamo sempre la stessa cosa, è grande stima verso di lui.